Salve, benvenuti a Crossroads. È da un po' che parliamo di questi strani piani per oscurare il sole. La chiamano geoingegneria solare e la stanno facendo sul serio. Anzi, i New York Times sembra addirittura promuoverla. Oggi vedremo cosa sta accadendo in realtà. Di recente è stato condotto un test per oscurare la Terra, alterando le nuvole per far sì che riflettano più luce solare nello spazio. Non è complottismo. Una cosiddetta operazione di schiarimento delle nuvole è stata appena effettuata su una porta aeree dismessa a San Francisco con l'idea di contribuire a combattere il presunto riscaldamento globale riducendo la quantità di luce solare che colpisce la Terra. Perfetto, non fa una grinza. Ma questo fa parte di un programma più ampio, noto come geoingegneria climatica. Vogliono cambiare la natura dell'ambiente. programmi come questo stanno iniziando a decollare nell'ambito della soluzione, magari la soluzione finale, per il cambiamento climatico. Le notizie su questi test stanno iniziando ad arrivare sui media mainstream del regime, che li difendono e li promuovono. Il New York Times ha pubblicato un bell'articolo sui recenti test ed era molto favorevole all'idea, a quanto pare, di oscurare la Terra per combattere quello che loro chiamano il cambiamento climatico. Leggiamo il New York Times. Poco prima delle nove del mattino di martedì, un ingegnere di nome Matthew Gallelli si è accovacciato sul ponte di una porta aerei dismessa nella Baia di San Francisco, ha indossato un paio di protezioni per le orecchie e ha premuto un interruttore. Pochi secondi dopo, un dispositivo simile a una macchina per la produzione di neve ha iniziato a rimbombare, per poi produrre un grande sibilo assordante. Dicono che una sottile nebbia di minuscole particelle di aereo sol si è uscita dalla sua bocca, viaggiando per centinaia di metri nell'aria. E, dicono, per la prima volta negli Stati Uniti si è usata una tecnologia progettata per schiarire le nuvole e far rimbalzare parte dei raggi solari nello spazio, un modo per raffreddare temporaneamente il pianeta, che ora si sta pericolosamente surriscaldando. Personalmente, io non credo che il pianeta si stia pericolosamente surriscaldando. Lo dicono basandosi su dati falsati o falsi presi da sensori messi in luoghi straordinariamente caldi, come, ad esempio, le piste degli aeroporti. Se metti un sensore sotto il sole cocente in una pista d'atterraggio, la temperatura sarà un po' più alta, no? Ma ormai siamo già oltre. Questi ora hanno eliminato i sensori e usano delle proiezioni generate al computer per determinare il surriscaldamento. Fabbricano ad arte i dati e li manipolano per giustificare la bufala del pericoloso surriscaldamento terrestre. E, francamente, io direi che questi buffoni bugiardi che farneticano del surriscaldamento globale stanno portando la gente a fare cose folli, come per esempio cercare di modificare le nuvole affinché meno luce solare colpisca la Terra. Ma andiamo avanti. Gli scienziati volevano verificare se la macchina, che ha richiesto anni di lavoro, fosse in grado di spruzzare aerosol di sale della giusta quantità all'aria aperta al di fuori di un laboratorio. Perché in questo modo si aggirano alcuni problemi di questa tecnologia. Ricordate l'ultima volta che ne abbiamo parlato? Bill Gates, quello di Windows, non è uno scienziato e nemmeno un medico. È solo Bill Gates e non è neanche un agricoltore. Ma sta in mezzo a tutte queste cose. Bill Gates ha sostenuto un piano per spruzzare dagli aerei aerosol nella stratosfera, per alterare la stratosfera rendendola simile a quella che si ha con un'eruzione vulcanica. Evento che, tra l'altro, storicamente è associato a epidemie e carestie. Se la cenere vulcanica avvolge la Terra, blocca una certa quantità di luce solare, il mondo diventa freddo e arriva una mini-era glaciale, che si porta dietro carestie, morti ed epidemie in tutto il mondo. Perfetto. E questi vogliono creare artificialmente questa situazione, per combattere il cambiamento climatico, dicono loro. Ma a parte questo, il problema del piano di Bill Gates è che richiede un sacco di aeroplani. Equipaggiarli con queste cose e poi farli volare in aria a spruzzare quella roba nella stratosfera. Quindi volando un po' più in alto di quanto possono fare normalmente gli aerei. È tutto un po' complicato, insomma. Gli scienziati che piacciono tanto al New York Times, invece, dicono che si potrebbe semplicemente spruzzare quella roba così, dal suolo, con l'idea, tutta da dimostrare, che usando gli aerosol, poi la sostanza arriverà alle nuvole, modificandole come serve a noi. Se dovesse funzionare, la fase successiva sarebbe quella di puntare al cielo e cercare di modificare la composizione delle nuvole sopra gli oceani della Terra. E questi non dicono per scherzo. Vogliono proprio cambiare la composizione delle nuvole per schiarirle e per far rimbalzare parte dei raggi solari nello spazio. E credono nell'ipotesi che, così facendo, raffredderanno il pianeta. Prima di tutto, questo mette in discussione l'idea stessa se l'intera faccenda sia vera o falsa. Se siamo effettivamente di fronte a una crisi e, naturalmente, se alterare significativamente il pianeta in questo modo causerebbe danni ancora più gravi. O magari è solo una cosa immaginaria e si sta creando un problema per qualcosa che non esiste. Ma resta il fatto che stanno caricando le nuvole di aerosol per renderle più dense per ridurre la temperatura della Terra, così che noi, le piante e tutto il resto del pianeta riceva meno luce solare. Io personalmente ho forti dubbi su tutta questa storia. Per me, quella del riscaldamento globale è la teoria dell'apocalisse di un folle culto politico. Ma anche a parte questo, in che modo l'alterazione delle nuvole influirà sulle precipitazioni? Ci hanno pensato? Se si rendono le nuvole più dense, poi potranno sempre fare quello che fanno normalmente, ossia raccogliere l'acqua e far piovere e mantenere tutto vivo sul pianeta. Cosa succede se si alterano le nuvole e si influenzano le precipitazioni? Cosa significa per le culture? E per noi, che effetto avrebbe sulla vita dei vegetali in generale? Cosa significherebbe, insomma, per noi e per tutto il mondo, se il mondo intero diventasse più buio? Il problema è che qui non si tratta solo di uno scienziato pazzo che pensa di poter cambiare la Terra in meglio girando un interruttore. Ci sono molti, molti programmi come questo e tutti, a mio avviso, sono folli. A livello del dottor male, stanno tutti cercando di alterare l'atmosfera in modi diversi e ognuno di essi è una minaccia per il mondo. E ognuna di queste cose è una minaccia per il pianeta molto più della crisi immaginaria a cui questi cercano di dare una risposta. Ognuna di queste idee, se le sommate tutte insieme, costituiscono una vera minaccia al pianeta causata dall'uomo. Stanno cercando di stravolgere il pianeta. Stanno costruendo strutture enormi, prevenendo ogni genere di processi produttivi e organizzativi necessari. Io penso che faranno un disastro se continueranno così. Ma torniamo al New York Times. Dopo il sermone sulla necessità di combattere il riscaldamento globale e di ridurre la temperatura della Terra, proseguono con altri programmi di cui abbiamo già parlato, come la cattura dell'anidride carbonica. Ci sono impianti già in funzione e ne stanno costruendo in diverse parti del mondo per catturare l'anidride carbonica. Ho già fatto un'intera puntata su questi impianti. La teoria è questa. Hanno tecnologie che aspirano il carbonio dall'aria. Noi espiriamo CO2. Le piante ne hanno bisogno per respirare. Se lo togli, probabilmente uccidi le piante. Ma loro lo fanno lo stesso. Tolgono la CO2 dall'aria, la imprigionano e la iniettano nelle acque sotterranee. E dicono che non c'è pericolo. Ma tutta questa cosa è abbastanza controversa, anche da parte di persone simili. E l'amministrazione Biden sta finanziando la ricerca su questi programmi di geoingegneria solare. E anche quelli che non sono attualmente oggetto di ricerca, come la cattura del carbonio, li stanno realizzando. Dietro questa roba, ovviamente, c'è un business corrotto. Già si parla di compravendita di crediti di CO2. Quando le aziende si freggiano di essere net zero, non è che hanno davvero cambiato i processi produttivi. Non è come se le compagnie petrolifere smettessero di vendere petrolio. Non fanno altro che acquistare crediti di anidride carbonica da questi assurdi impianti, creati da degli psicopatici, che dichiarano di aver imprigionato X quantità di carbonio. E che poi appunto vendono i crediti della quantità X di CO2 che hanno tolto dall'atmosfera a queste aziende private. Quel tanto che basta per potersi dichiarare net zero. Comprano crediti di anidride carbonica in quantità pari a quella che emettono. Ed ecco fatto l'impatto zero. Quindi si finisce per finanziare questo intero sub-settore industriale che, per come la vedo io, potrebbe distruggere l'ambiente, proprio nascondendosi dietro al pretesto di voler salvare l'ambiente. Ma torniamo al New York Times. Persino l'amministrazione Biden sta cercando di prendere le distanze da questa idea della geo-ingegneria solare, nonostante sia contro l'anidride carbonica e sia favorevole a tutte queste follie. Forse perché la geo-ingegneria solare è già un passo oltre la follia. Troppo pazzesca anche per certi estremisti di sinistra pazzi furiosi che credono davvero in questa roba. È troppo pazzesco persino per loro. Ma a New York Times piace. Ne parla bene. Dice che università, fondazioni, investitori privati e il governo federale hanno iniziato a finanziare una serie di progetti che vanno da risucchiare l'anidride carbonica dall'atmosfera all'aggiungere ferro all'oceano nel tentativo di immagazzinare l'anidride carbonica sul fondo del mare. Ma questi cosa vogliono fare al pianeta? Più avanti, dice che schiarire le nuvole, ancora una volta la geo-ingegneria solare, è una delle tante idee per spingere l'energia solare nello spazio, evitare che la luce solare ci colpisca riflettendola indietro. Si tratta della cosiddetta modifica della radiazione solare o geo-ingegneria solare o dell'intervento sul clima. Qui siamo a livello del Mr. Burns dei Simpson. Mettere un qualcosa per bloccare la luce del sole che arriva al pianeta. Cose simili, pochi anni fa, erano considerate roba da manicomio criminale, ma ora le considerano una soluzione plausibile a questa crisi, che si sono inventati loro. E New York Times qui sottolinea che, rispetto ad altre possibilità, come l'iniezione di aerosol nella stratosfera, cioè la soluzione di Bill Gates, lo schierimento delle nuvole marine sarebbe localizzato e utilizzerebbe aerosol di sale marino relativamente buoni, rispetto ad altre sostanze chimiche. Ma con lo stesso effetto, ovviamente, di ridurre la luce solare. Però, l'idea di interferire in quel modo con la natura è così controversa che gli organizzatori del test di martedì hanno mantenuto segreti i dettagli. Mantengono il segreto, perché si dicono preoccupati che degli oppositori possano cercare di fermarli. Sebbene l'amministrazione Biden stia finanziando ricerche su diversi interventi per il clima, tra cui l'oscuramento delle nuvole marine, la Casa Bianca ha preso le distanze dallo studio californiano pubblicizzato in questo articolo, inviando una dichiarazione al New York Times che recita. Il governo degli Stati Uniti non è coinvolto negli esperimenti di modifica della radiazione solare SRM che si stanno svolgendo ad Alamida in California o altrove. Roba da matti, gente. Roba da manicomio. E fateci caso, spesso, quando sentite che fanno questo tipo di cose, sembra troppo assurdo per crederci, specie all'inizio. Ma qui c'è molta gente che si è già messa a lavoro su questa roba. In un episodio precedente ho analizzato molti diversi tipi di geoingegneria solare attualmente oggetto di ricerca. E anche alcuni test che stanno facendo. Ci sono enormi programmi promossi da organizzazioni molto grandi. Il World Economic Forum, come ho già detto in passato, ha un programma che prevede il lancio nello spazio di un gigantesco sacchetto che rifletterà parte della luce solare dalla Terra nello spazio, utilizzando un affare che sembra un gigantesco sacchetto di plastica. Il programma di Bill Gates è quello che riguarda l'iniezione di aerosol direttamente nella stratosfera. Quest'altro, invece, vuole iniettare aerosol solo dal suolo, utilizzando il sale marino. Ma l'affermazione è proprio questa, usare gli aerosol e così via. Ci sono molti programmi simili. La preoccupazione è che, sebbene sembri una follia, sebbene sembri una cosa troppo lontana, non solo ci sono persone che lo stanno facendo, ma anche che, nonostante l'amministrazione Biden stia tentando di prendere le distanze, di fatto sta finanziando alcune ricerche. E sono in corso diverse sperimentazioni e stanno conducendo delle ricerche. In Messico ci sono organizzazioni che hanno cercato di sperimentare queste cose, ma il governo messicano le ha bloccate. Anche per loro è una cosa troppo folle.